ehi tu, iscrivetevi al mio canale ciao ragazzi mi è venuto questo nuovo video oggi vi faccio vedere come metto in pratica Bella Baby che è il tiralatte allora iniziamo con mettere i pezzi stavo caricando stacco iniziamo con mettiamo il tubicino quindi io adesso lo faccio vedere solo da un lato quindi attacco qua l'altro lo attacco qua dietro dove c'è un buco solo così poi il terzo lo attacco qua che è per tirare il latte ok controllate che i tappi siano puliti e niente adesso vi faccio vedere iniziamo con mettendo i pezzi come vedete allora togliamo il biberon vedete che qua c'è un tappo io infatti tolgo il tappo da qua e metto il tappino qua così non lo metto direttamente sul tavolo e qua c'è il coso per chiudere il biberon ecco qua allora vedete qua qua in mezzo dovete mettere il capezzolo così tira bene e dovete far sì che si appoggi tutta la tetta così tenendo presso allora accendiamolo qua come ricordate che avevo detto di tenere schiacciato qua ok vediamo che sia a livello 1 ok così sappiamo che direttamente non ci fa subito allora la soluzione è forte quindi dobbiamo sempre controllare e iniziamo a schiacciare questo è il minimo ricordate andiamo un secondo così tipo è proprio che non ti succhia tanto quindi io vado avanti vedete come scende siamo al 3 io vado avanti cercate di tenerelo tipo dritto così e niente ragazzi se volete ci sono altri fino al sesto e se non volete tipo questa istruzione qua c'è quello vibrante che va fino al come vedete al 6 e niente ragazzi io rimango con quello naturale io sto tipo 10 minuti qua così la tetta la tetta arriva fino a qua grazie a tutti grazie a tutti